e giocando alla bua come te e dai tuoi sono piccini non fare la figura della scena no 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 non fare la figura della scena non ti spaccata tuoi toglie tuoi frattasso i compiti del pegolo mamma mamma dove sei pegolo chi è pegolo? il portiere del sassuolo si vabbè pegolo dove sei? che c'entra ma pegolo sei la juve fiorensì juve sassuolo ok scusa scusa signora no io non parlo ma sapete perchè non parlo io? perchè? vi ho fatto mostrare il numero 7 il numero 7 perchè vlovic è il numero 7 nella juve no? vlovic è il numero 7 quindi noi vinciamo col sassuolo andiamo in semifinale semifinale no 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 semifinale contro la fiorentina semifinale contro la fiorentina che abbiamo vinto 1 a 0 in campionato con la fiorentina la fiorentina che compie ontec può fare di più può fare di più per un motivo che non lo voglio dire eh Brocaven non gli piace no mi piace ancora però un po' mi va cagare lo... che c'è? lo dirò raga non mi piace un pochino perchè ve lo spiegherò nel video di oggi di Brocaven spoilerato tutto perchè? vabbè perchè lo spoilerato? mmm ah perchè lo fost... perchè... che bello sto scudetto no 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 questo non lo deve non lo dovete guardare il nome non lo dovete guardare dovete solo guardare lo scudetto e il numero il nome no traditore questo qua è un traditore è un traditore no Ronaldo c'è io questo qui è un traditore no no è un traditore no così l'hai spoilerato Brocaven un pochino l'hai spoilerato questo è un traditore ma non parliamo di Ronaldo basta non parliamo di Ronaldo parliamo di Vlaovic che ha fatto una partita voglio abbassare la voce straordinaria non ha fatto niente per tutta la partita però al novantesimo è la mia voce è la mia voce non è vero perchè cos'era questa voce? però al novantesimo abbiamo vinto cos'è no? Dionisi spero che non sia sentito Dionisi perché mi dispiace mi dispiace Dionisi hai vinto all'ultimo secondo in campionato contro di noi questa è la vendetta di quello che ci hai fatto ci hai fatto rattristire i cuori bianconeri e sta contando le figurine che abbiamo e questa squadra di questa maglia che sto tenendo ha vinto a due minuti dal termine con un autogol che per me è il gol di Vlaovic però eh ragazzi è un autogol forse oggi faremo due video tre video questo qua è il primo questo qua Brocaven è quello delle figurine perchè ho contato e forse attaccheremo 28 ok e queste vabbè queste le attaccheremo in un prossimo video in altri video allora questo è probabile che lo vinciamo di nuovo questo secondo te lo vinciamo? no perchè questo ce l'ha l'Inter nella maglia siamo quarti ma questa è riuscita adesso adesso giochiamo contro l'Atalanta a Bergamo il 13 febbraio e cioè domenica e a Bergamo l'è andata ha vinto l'Atalanta per 1 a 0 ho fatto pure il video oh e niente oh oh il nostro cuore la maglia della Fiorentina guardate wow questo è un ricordo di Vlau eh si lo so e ragazzi possiamo chiudere? secondo me si siamo a 5 minuti un altro video attaccheremo pure tutto eeeh niente ragazzi secondo me sono niente forza Juve sempre e comunque con una vittoria che ci poteva stare c'è c'è voluta per andare insieme ai finali contro la Viola contro la Fiorentina e da Mario e Giuseppe e Vlauvić eeeh no Di Bala ha fatto un bellissimo gol tra ore tiro a giro c'è stato c'è stato c'è stato c'è stato da Mario Giuseppe e Vlauvić e e Pegolo e quegli altri c'è stato c'è stato da Mario Giuseppe Vlauvić TV out ciao